Storia della razza. In Inghilterra, la distinzione tra Greyhound e Deround era sia legale che biologica. I levrieri venivano usati per la caccia legale solo dalla classe superiore privilegiata che poteva mostrare le proprie qualifiche con reddito o fortuna sufficienti. Dal 1389, a qualsiasi altra persona con un reddito inferiore era vietato cacciare con qualsiasi cane, incluso un levriero. Brian Plummer identifica i Norfolk lurker come i precursori dei moderni Deround. Lurker appartiene ai levrieri vecchio stile. Le prime menzioni ufficiali del tipo levriero renna si trovano negli scritti del XVI secolo. Allo stesso tempo, i levrieri a pelo ruvido, a cui appartiene il lurker, sono molto più antichi, i loro riferimenti si trovano in fonti risalenti all'VIII-IX secolo. Per molto tempo, i levrieri sono stati una razza che solo i conoscenti avevano il diritto di mantenere. Allo stesso tempo, i levrieri hanno guadagnato popolarità sia nella stessa Scozia che in Inghilterra. Alla fine del XVIII secolo, la popolazione di questa razza diminuì significativamente a causa del calo dell'interesse per la caccia guidata. Dalla metà del XIX secolo, l'interesse per la razza riprese e i levrieri iniziarono a guadagnare popolarità come cane da compagnia. Nello stesso periodo, la razza iniziò a essere attivamente impegnata in America, dove, di conseguenza, la razza ricevette il primo riconoscimento ufficiale, quando nel 1886 il primo standard di questa razza fu adottato dall'American Kennel Club. I Deround sono stati riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale nel 1955. Al momento, la razza è piuttosto piccola, distribuita principalmente nella sua terra d'origine e negli Stati Uniti. Il lurker, o levriero scozzese, è un'antica razza di cani da caccia, quasi perduta all'inizio del XIX secolo, ma successivamente restaurata. Diferisce in un carattere calmo, equilibrato, affetto per il proprietario, e i suoi familiari. Viene utilizzato solo per la caccia e come compagno. È sprovvisto di capacità di sentinella, poiché è fedele anche agli estranei. Può essere dannoso per gli animali domestici. L'urker è una razza di levriero scozzese. Storicamente utilizzato per la caccia imbattuta di ungulati in terreni accidentati difficili. La razza ha preso il nome perché, prima di tutto, questi cani venivano usati per la caccia al cervo. Altri nomi sono Der Greyhound, Scottish Der Greyhound, Scottish Lurker. La razza è riconosciuta da molte federazioni canine. Punti salienti e fatti interessanti. Il levriero, o cervo levriero americano, è considerato una sottospecie del levriero. Visivamente, questi cani sono molto simili, il che ha dato motivo di considerare i levrieri una sottospecie del levriero scozzese dei cervi. In effetti, il levriero non è esattamente la stessa razza, poiché hanno una mescolanza di sangue di levriero. Nel continente americano, i levrieri si sono sviluppati dal XVII secolo, quando i primi coloni dall'Europa portarono con sé diversi levrieri europei. Nel corso del loro adattamento alle nuove condizioni, il levriero si è formato sulla base del levriero. Il levriero infatti non è una razza stabilizzata, ma continua ad essere allevato come un misto dei due, la cosiddetta razza ibrida o le Herker. Una miscela di sangue di levriero conferisce ai levrieri una maggiore velocità ed eccitazione nel loro lavoro, rispetto ai levrieri. Inoltre, rispetto ai levrieri, hanno una maggiore resistenza, una manutenzione senza pretese, e una maggiore capacità di tollerare temperature negative. Il carattere dei levrieri praticamente non differisce dai levrieri, sono anche attivi, persistenti nella ricerca della preda, e sono in contatto con i loro proprietari. La parola lurker deriva dall'inglese medio lurk, che significa nascondersi o rimanere in qualche luogo di nascosto. Nell'inglese arcaico, il significato della parola lurker è un predatore, un truffatore o un laduncolo. L'origine della parola, potrebbe essere dal francese l'arker, che significa improvvisamente spostarsi di lato. Aspetto. L'urker è una delle razze canine più alte, lo standard per questa razza indica solo l'altezza minima di femmine e maschi, mentre il limite superiore per la crescita non è limitato. Allo stesso tempo, il peso dei levrieri non è eccezionale per cani di questa altezza, poiché hanno una costituzione astenica, come tutti i levrieri. Questi cani possono essere descritti come segue. La testa di questa razza ha proporzioni allungate con un cranio piatto. Il passaggio dalla fronte al muso non è quasi pronunciato. Il muso è fortemente allungato, si assottiglia verso il tartufo e presenta una leggera gobba. Il naso è nero o scuro, grande. Le labbra si adattano perfettamente ai denti, non hanno ali e giogaia coriacea. Il rilievo delle mascelle è ben espresso, i denti sono grandi, con chiusura a forbice completa. Gli occhi sono piccoli, rotondi, ravvicinati. Le orecchie sono attaccate alte, abbassate a metà e distese. In uno stato agitato, il cane può alzare completamente le orecchie. Anche le orecchie erette sono accettabili, e non sono uno svantaggio. La cresta occipitale è molto sviluppata, il passaggio dalla testa al collo è ben pronunciato. Il corpo è allungato, dà l'impressione di volume grazie al petto pronunciato. La schiena è fortemente arcuata verso l'alto, il punto più alto della schiena è sopra il garrese. Il lombo è notevolmente curvo, scendendo fortemente verso la coda. La groppa è larga, molto muscolosa e alta. La coda è lunga, quasi fino a terra, sottile e leggermente mobile. Molto spesso, la coda dei levrieri pende liberamente, e in movimento non sale più in alto della linea di fondo. Gli arti sono diritti, molto lunghi, paralleli tra loro. Le scapole sono fortemente sviluppate sugli arti anteriori, i gomiti sono premuti strettamente sul petto, e si trovano sopra la linea del torace. Il passaggio dalla zampa al metacarpo è ben definito, il metacarpo stesso è sottile. Gli arti posteriori sono lunghi, leggermente più lunghi degli anteriori. La coscia è ben muscolosa e voluminosa, il garretto è inserito basso. Il metacarpo è corto, le zampe stesse sono compatte, con lunghe dita raccolte in un alto arco. Gli artigli devono toccare il suolo. Il pelo è ispido, spesso, duro. Il cane dà l'impressione di essere trasandato, un po' arruffato. Il pelo sul corpo, sul collo e sugli arti superiori è lungo una decina di centimetri, e sulla testa, sul petto, sul ventre e sul fondo delle gambe il pelo è corto, quasi liscio. Sul muso, vicino alle orecchie e sugli zigomi, il mantello forma piccole macchioline. Il colore è tutte le sfumature di grigio, zonale, meno spesso rosso chiaro o fulgo. È accettabile la presenza di una maschera sul muso, e di piccole tigrature di colore. Anche le macchie bianche sono accettabili, ma non desiderabili. Tratti distintivi del carattere. I levrieri sono spericolati e testardi nel loro lavoro, mentre al di fuori della caccia, sono abbastanza calmi e sobri. Se tenuti in casa, non sono soggetti a rumori e attività. Sono affettuosi e affettuosi con le persone, sia con i familiari che con gli estranei. A causa di tali caratteristiche di carattere, è impossibile usare i levrieri come protezione, nonostante le loro grandi dimensioni. Grazie alla loro natura bonaria e gentile, questi cani vanno d'accordo con gli altri cani in casa, e sono anche pazienti con i bambini. Ma stare con altre specie di animali, può essere complicato dal fatto che i levrieri hanno un istinto di caccia molto sviluppato. Quando interagiscono sia con le persone che con i loro compagni levrieri, non sono inclini ai giochi attivi, non hanno bisogno di un carico costante mentre camminano. I levrieri mostrano indipendenza nel processo decisionale, come la maggior parte dei cani da caccia. Le squadre di insegnamento, sono lente e richiedono persistenza e attenzione da parte dei proprietari. Manutenzione e cura. L'urker prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Salute. Le malattie più comuni caratteristiche di questa razza sono la cardiomiopatia, lo schunt portosistemico, la cistinuria, l'ipotiroidismo, l'allergia respiratoria e la displasia. I peli dei levrieri richiedono una pulizia regolare, devono essere pettinati o tagliati più volte alla settimana, poiché i cani di questa razza stanno attivamente perdendo. Per il periodo della crescita, i cuccioli devono fare attenzione alle zampe, è importante evitare di salire e scendere le scale, così come i salti in alto. Quando si coltivano i levrieri, la loro dieta dovrebbe essere ricca di calcio e minerali. Prezzo e come acquistare correttamente. Il prezzo medio di un cucciolo di lurker è di 700 dollari. Linea di fondo. Il lurker è un cane di razza mista, in particolare un levriero, accoppiato con un altro tipo di cane, più comunemente un cane da pastore o un terrier. Storicamente, il cane è un braconiere, oggigiorno sono tenuti come animali domestici o cani da caccia. I levrieri erano tradizionalmente usati come cani da caccia, ma ora non vengono quasi mai utilizzati nella caccia pratica. La caccia è stata sostituita da sport canini come il coursing e la corsa, in cui i di ron si comportano bene. A causa della loro natura gentile, e del contatto con le persone, i levrieri sono usati anche come cani da compagnia.